Ciao a tutti e benvenuti al TG di AC Milan Inside. Le notizie di oggi riguardano in particolar modo l'addio di Kier a fine campionato annunciato dal suo agente. Si torna a parlare di infortuni e in particolar modo gli infortuni di Mike e di Loftusik. Per Mike si parla di una lesione di basso grado del lungo adduttore destro. Mentre per Loftusik si parla sempre di una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro. Nonostante il suo nome sia accostato fortemente al Milan in questi giorni, il West Ham torna forte su Lopeteghi. Tornando a parlare invece di calciatori, l'agente di Renato Vega ha ammesso che il Milan è da tempo che lo segue ma effettivamente non c'è mai stata una vera e propria offerta. Ogni giorno vi aggiorneremo su tutte le novità che riguardano il nostro Milan e vi ricordo che tutto questo è riportato sul nostro sito ufficiale acmilaninside.com Grazie. 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 Grazie.